Brawl Stars nel chill Oh quest'oggi siamo qua proprio con quella tipologia di video che piace a me Non c'è un contenuto vero e proprio Facciamo qualche partita, parliamo un po' E intanto, anzi in realtà l'obiettivo è andare a prendere le tre stelline in basso a destra E perché no, nel mentre farci anche le giornaliere Abbiamo tre battaglie da vincere su footbrawl intanto E poi usiamo fang che dobbiamo fare le vittorie, ci sta molto bene Prima di iniziare andiamo a vedere un po' cosa c'è di interessante nello shop 5 crediti che andiamo a prendere molto volentieri Siamo molto vicini alla prossima fama Vi ricordo ovviamente che oggi c'è l'axle in mondo dello shop E ora andiamo Allora tagliettino tattico, vi ho tagliato tutte le partite Perché ho fatto tre sconfitte Fa anche ragazzi e non fa per me, non è il mio brawler Su footbrawl soprattutto Quindi la missione la cantoniamo un attimo Magari in questo momento andiamo a mettere una cessia Un po' più tranquilli Ora, vediamo se finalmente riusciamo a fare questa prima vittoria Non mi sembra di chiedere nulla di astrale Cioè nel senso, e quindi partiamo Qua sarebbe carino se riuscissi a prenderne uno E poi andiamo a colpire di conseguenza anche gli altri Oddio, più o meno No, in parte è anche successo Oh, già qua mi sento molto più a mio agio No, ero messo così male con la vita Ho pushato tranquillo, vabbè Peccato perché se fossi riuscita a sopravvivere Assicuro questa era goal Dato che i due erano one shot Però lo fanno lo stesso Dai, è Gabrik Chiunque tu sia, let's go Ora, cerchiamo di non esagerare col push Ottimo intanto qua che già la nita ci è andata giù Qua volento posso, 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 posso Buttarti la torretta tipo di qua Subito gadget Ok, più o meno Io ho il gadget, quello che va a curare la torretta Non lo so però mai Non ho fatto in tempo Qua, se posso dirvi la verità Non mi sembra per niente male la situa Anche se il goal purtroppo non arriva Ma è anche vero che dovrebbe arrivare adesso Sono tutti morti Poi di anzi riusciamo a fare anche un trichettino La bel trick Cosa più sbocchevole della storia Oh, vedi, bastava cambiare brawler Mannaggia me che ho fatto se tre sconfitte per niente Prima stelline ragazzi Devo un po' che ci scappa di interessante Già super raro mi piace Da un bell'epico doio a niente Ultimamente sempre super rari mi escono Orari, ovviamente Comunque andiamo Ho sentito il rumore della moneta Infatti 101 monetina Ok, questa l'abbiamo vinta Ve la taglio Quindi se vinciamo questa Chiudiamo già la missione di footbrawl E non è male come cosa Poi abbiamo Shelly Energetic E Jackie Ok, sono abbastanza tranquillo Qua spariamo sempre tutto mid Sperando di prendere qualcuno Ma niente Energetic Tu da dove passi? Sinistra, destra Qual è il tuo piano bro? Fino a quando ti riesco a colpire Poi passa Occhio che qua Che è successo? No, no, no La Jackie No, no, no Eh niente La Jackie purtroppo fa goal E infatti Niente Mannaggia Riuscita a passare Babbo, ripartiamo Stavolta la Jackie Odio il gadget più strano della No, no Mannaggia Fermate che è sta velocità Ok, almeno c'è andata giù Resisti amico energetico La torretta intanto Zitta zitta Ancora un po' di acapegna Andesperavo di curarla Mannaggia Qua c'è uno vero? Sì, ci sta l'energetic Che ci va giù Ok Perché dobbiamo andare a fare l'altro goal Se qua il bro Andasse a distruggere il muretto Ok Ma non ho capito perché Il bro era fermo No ti prego No ti prego Ok Potevamo evitare la torretta Però l'ho usata nel dubbio Dato che mi sembrava che non entrasse Va bene dai No problem Guardate la Jackie Grande brother Ma sei un animale Insegnami Lui così Stava vincendo E alla fine si è fermato Ma va benissimo E assolutamente Che sia mai L'unica cosa è sfruttare Il momentum Prima che ritorni a giocare No? Oppure prima che il bot Prenda il controllo Beh fino a quando è il bot Ci può anche stare Ecco per ora si sta muovendo Vai a capire No ma credo che sia il bot Sì credo che sia il bot Abbastanza palese Posso recuperare la vita O sto chiedendo troppo A quanto pare posso Però la torretta Nel dubbio te la butto Certo messa lì In questo momento Non è che ci torni Così tanto utile Ma è anche vero Che abbiamo vinto Per cui a noi sta bene così Ok missione di footbrawl Chiusa Purtroppo qua Non ci dà la stellina Prossima partita Cioè perché mi ha dato Perché mi ha dato sta cosa Ah perché mi sa Che era una missione Tra quelle speciali Sì mi sa di sì Per quel che riguarda Le altre missioni Possiamo andare Beh intanto a fare una kill Nelle solo Ah tra l'altro Ho anche tolto la missione Delle vittorie con Fang Quindi posso usare O Pocho Mendy O Grey Proviamo con Pocho Dai facciamoci Sta kill in showdown E se vinciamo Abbiamo anche la stellina Quindi dai Ma il like Non l'hai lasciato Ma che è bot lobby Perché sono in bot lobby Il gioco me l'ha voluta regalare Beh meglio così Partita un po' sbocco Però non capisco Allora in teoria Il gioco ti dovrebbe fare Questo tipo di regali Quando fai diverse Sconfitte di fila Ma io ho però vinto Tre vittorie di fila In footbrawl Quindi non ha veramente senso Però ripeto A noi sta bene Sono quelle dieci coppie Che oddio In teoria il gioco Ci dovrebbe regalare Aspetta che qua Lo scam è sempre dietro l'angolo Ok tu ci vai giù Grazie mille Il power up Lo prendo Oh che te salti È il primo bot Che sei impazzito Facciamo di questo Nel dubbio Ma in teoria Eh no adesso non scappa Amico mio Non ci provare Per favore Vacci a morire Un colpettino E bravissimo Guarda io nel dubbio La cassettina qua sopra La prendo Già siamo quarti Quindi la vittoria c'è Però io voglio un più dieci Non un più quattro Visto che siamo qua Eh nel senso Aspetta non usarla Occhio che tra un po' Ci rimuoio io E more C'erei Spariamo Spammiamo Tanto Ci vai giù tu Ok Con la prossima hit Io riprendo anche la super C'è uno che camperà qua Direi di no Uno che camperà qua Direi di no Però c'è il signor Sabu Quella sotto Bella bro Faccio morire Bravissimo Oh quanti Oh Mi ha spammato 47 hit Qua qualcosa Non mi torna Sti bot Non la raccontano giusta Abbiamo bel per chiudere Nel dubbio Ti vado di gadget Ti vado di super Ti sparo tutto quello che ho E il gioco ci ha appunto Deliziato con questi più dieci Ma andiamo a vedere Missione fatta ovviamente Grande gioco Ma tra l'altro Adesso che ho fatto le vittorie con Pocho Ho visto che l'icona Era solo del Pocho Quindi Vabbè intanto qua Eh intanto qua Epico Aspetta Attenzione al gioco Ho sentito il rumore delle monete Però so che può essere Niente Sempre monete Mannaggia No stavo dicendo Qua col fatto Ah no vedi Valgono sempre tutte e tre No perché signor editor Facciamo vedere che l'iconcina Era solamente sul Pocho Non c'erano gli altri due Quindi il dubbio mi era venuto Vabbè comunque adesso faccio per i fatti miei Quella di Robo Assalto E poi ci becchiamo verso la fine Ok raga direi che abbiamo vinto Siamo a smodata E ha finito anche quindi questa missione Molto bene In questo caso Vabbè non ho nessuna stellina Però con questa vittoria Poi mancano le ultime due Magari ce la facciamo su sopravvivenza Che dovrei raccogliere Mi sa nelle duo I cubetti di energia Andiamo subito a vedere Ed effettivamente si Raccogli 40 cubi di energia E direi di farla sempre con Pocho A sto punto Ma per forza Comunque raga mi raccomando state sintonizzati Perché nel video di domani O forse dopo domani Usciranno i migliori metodi Per raccogliere le stelline Proprio in termini di tempo Per cui restate sintonizzati Che sono dei metodi molto interessanti Non troppo scontati Anche perché come ho detto Sono tre Quindi ve li farò vedere in questo video Comentandoci È la madonna Che stanno a fare quei due li Oh paziti Qua dobbiamo arrivare secondi Ricordiamoci che Ok power up Ma dobbiamo vincere principalmente Noi siamo qua per le stelline I brosi sono un attimo divisi Se andassimo entrambi dallo stesso Potrebbe essere interessante come cosa L'unica cosa è che qua Cioè in realtà ci stiamo splittando anche noi Cioè uno spara uno Quell'altro spara quell'altro Ma do che casino Non ci sto capendo nulla Solo che potremmo rischiare un panino E non va bene È qua tipo adesso perfetto No non l'abbiamo mai presa Perché sbocco Ce la faremo A sopravvivere almeno Ok Ma do bellissimo No ti prego Allora ragazzi qua Ok E l'energetic Dove è andato? Non è qua sotto In realtà sì Uso la super No è vero che toglie mille La super Aspettame bro O intanto occhio No il Chester con 13 Power up No 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 Allora se ci muore l'energetic Ti prego Oh mio dio no Devo venire da me Ti prego Cioè spero che i due Non vengano da me E vengono da me Mannaggia loro No ragazzi avete Avete sbagliato Dall'altra parte Dalla Dall'altra parte Dalla No 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 Ti prego Dalla Dall'altra parte Che fastidio Per il content Quella comunque Non la tagliamo Quando succedono queste cose E beh è un buon prendersi 50 e 50 Io mi sono allontanato apposta Però forse se avessimo Continuato a insistere Con l'energetic Magari avremmo potuto Buttarlo giù In tempo Infatti il bro ha insistito Non so se ha insistito Per quello Ma comunque Ormai è andata così Qua all'inizio Già sembra abbastanza appetitoso Comunque ma ha distrutto In realtà Altro che appetitoso Vai Federico Abbiamo lo stesso nome Federico e Federica Bello 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 molto bene E 4 power up Pettini Con sto start Goloso e corposo Non si può scammare So via Più che altro Vabbè anche questi qua a sinistra Sono messi bene Quelli in mezzo Se per assurdo ci crepassero Non sarebbe male A mio avviso Casini No c'è andata giù Federica Che combini Però il signor Oh bello sto le ho Bello 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 Ok faccio di questo Giusto per dargli il colpo di grazia Però la tar Mannaggia a te Hai mai rubato i power up Vabbè l'importante È arrivare i secondi E chi se frega Se mi rubi i power up Camperiamo Vediamo se Se per assurdo C'è terzi No bro Io sto qua Regà non mi muovo Per il content Stavolta voglio star fermo Certo con la puzza Lì siamo forse un po Attirati Io da qua in realtà Me ne devo andare Vado giù Forse riesco a passare Più o meno inosservato Ok uno c'è andato giù Ragazzi per favore Date il colpo di grazia Let's go Ehi sto Federica Come si gioca in sopravvivenza Questo è il metodo vincente Vabbè qua andiamo Tanto odio Però aspetta che Forse forse È peccato Vabbè questa vittoria Comunque non ci darà nulla Abbiamo preso qualche power up La prossima ci dà la stellina E magari vediamo Se riusciamo a vincerla Proprio primo posto Giusto Lo spune Non mi sembra male comunque Ci sono un bel po' di casse qua Quindi vediamo che succede Vai colti Gli do una mano Perfetto Quattro power up subito No ma Questi a dove arrivano Impazziti È anche vero che Beh Eugenio Tu fai Tamita No però se il Mortis è sorrente con me è un problema Beh l'Eugenio ci va giù e a noi sta bene così Anche 5 power up che sono ottimi per partire L'unica cosa è che l'altro il Mortis è andato in basso Però vabbè bello 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 Bravissimo amico mio Per la missione tutti questi power up fanno indubbiamente comodo Occhio a non creparci però Raxor che arrivati a questo punto Non dico che la vittoria si è in pugno eh Perché alla fine ok power up ma basta un panino e tutto si smonta Però a livello statistico non è per niente male la situa Bro un colpettino per favore No 48 a capizzi dai non ci credo Ok molto molto bene Arrivati a questo punto qua forse No 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 Ho cambiato idea anche se poi se il bro si avvicina così Bello vi avvicinate ancora un po' amico mio per favore E facciamo colt da chi andiamo? Da quello su no da bed che casino L'ho detto prima che rischiam panini quindi meglio non strappiccicati Che se il Dynamax ci prende di mira col bombone gadget e cose ci devasta Siamo terzi e va benissimo così Però ok un altro è andato giù Ah mi sa che sono 1 e 1 Il Dynamax è bellissimo amico mio Mi servi? Mi serve? Ok Guarda prendi power up giusto per la missione Oddio speravo in realtà di prenderne un po' di più Tanto primo o secondo in questo momento non ci cambiava nulla Certo io ho detto poco fa vincere con un primo posto Vediamo se il colt la carria Se riesce a recuperare la vita Oddio in realtà non è detto perché a livello di power up Uh il colt la carriata Let's go Peccato che alcuni power up non me li ha contati Però me ne ha contati 9 va bene lo stesso dai Quindi facciamo esci In teoria abbiamo preso la nostra stellina Certo super raro epico Mitico andiamo a crescere Ma sarà raro palese Va bene c'è andata bene Certo solo oro abbiamo troppo Mi popo solo oro Non poco eh perché se mettiamo tutto insieme È una bella quantità però insomma nulla di incredibile E quindi raga per questo video chill Direi che possa essere tutto Mi raccomando un bel like Iscrizione e scamparellata tattica Noi come sempre ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima Noi come sempre ci becchiamo alla prossima